Ciao ragazzi, sono Stefano Dice e benvenuti in questo nuovo video di oggi Siamo ritornati in un nuovissimo video insieme Oggi come state vedendo e come avete detto dal titolo Siamo su Slither.io Siamo su Slither.io, Slither.io come volete chiamarlo Siamo in compagnia di Claudio Ciao ragazzi Ed oggi finalmente stiamo portando questo gioco sul canale Perché non ho mai portato questo gioco sul canale Cioè adesso neanche me lo ricordavo in realtà Ok, ho ucciso uno subito però E dato che lo stanno riportando un sacco di youtuber famosissimi Voglio portarlo anche io perché onestamente dato che non l'ho mai portato Dato che ci gioco ogni tanto Ho detto perché non portarlo anche sul canale Allora Claudio dimmi in che punto della mappa 6 che ti raggiungo subito Io sto arrivando al centro Allora io sono tipo, sto andando un po' verso l'alto Quindi devo tornare indietro Sto andando quasi al centro preciso Solo che ci sono delle persone veramente big qua E non riesco a passare Ok, sono un attimo più libero adesso Morto, sono morto Esatto Proprio così ragazzi Volevo proprio dirvi che sono morto Allora il primo in classifica ha 14.000 punti Si chiama Mamba Ed è veramente grosso in questo momento penso Quindi non penso mai di arrivare in classifica Però almeno voglio fare 1.000 punti Dato che poco fa sono morto subito Voglio fare subito 1.000 punti Ovviamente vi ricordo che se lasciare tantissimi like a questo video Porterò anche altri episodi Magari anche con altre persone Quanti punti hai e che posizione sei? Io sono a 200 Io sono a 356 Cioè è una m***a in questo momento Cioè faccio schifo totale Cioè andiamo verso il centro dai Veloce Qua c'è una cosina Me la prendo Io non so se vi ho detto Ma io faccio un po' cacare questo gioco Perché non riesco mai a prendere Tipo a cerchiare qualcuno Non riesco a fare niente Io vado avanti camperando Diciamo a prendere queste cose Che volano Che danno un sacco di punti E ogni tanto però ci arriviamo anche A buoni punti di classifica Ragazzi non potete capire Ma mi ammazzano sempre quelli più piccoli Cioè è una cosa vergognosa Cioè quando sono enorme Mi ammazzano sempre quelli piccoli E basta Sono i bastardi quelli più piccoli Eh sì Perché ho ucciso uno Ho ucciso uno In verità si è scantato contro di me Però vabbè Facciamo finta che l'ho ucciso Oh attenzione Prima kill forse di questa giornata Dammi tutti i suoi punti Mi dici se sei adesso al centro preciso Perché non sono al centro preciso No minimamente 120esima e sono quasi al centro preciso Dove scendere un attimino Guarda di solito Andando sempre al centro Oddio che stava succedendo Questo si stava schiantando totalmente Vai via Questo di qua è troppo sprintato oggi Via Via pure tu Che non voglio schiantarmi Adesso sto andando veramente verso il centro Dove c'è quel primo là? Porca puttana Adesso il primo adesso non è più quello Quello è morto Adesso c'è ntlslitter.com Che ha 11.000 punti Quindi molto meglio Ai Mi sto schiantando Però ho preso un sacco di cose E c'è un enorme qui Oddio c'è il primo in classifica Sono dal primo in classifica Sono accanto a lui in pratica Qui è morto qualcuno Non si fregano i punti Me li frego io No mi ha ucciso Cookie Cookie mi ha ucciso Ma vai a fare in cookie I punti che stai mi raccogliendo Sono i miei vecchi preferiti Eh perché anche tu sei morto da cookie Oppure sei morto dal primo Eh Uh dai Stavolta mi ha fatto spawnare al centro Qui c'è uno arancione Che è veramente grossissimo Ed è settimo in classifica Ma se lo uccido tipo No non riesco ad ucciderlo Magari uccidere uno in classifica Minchia Ehi Un altro si è schiantato contro di me Grandissimo Eh quanti morti qua No pure io Ma vaffaculo Ma io volevo ucciderli E sono morto insieme a loro Vaffaculo Non ci sta questa cosa Non ci sta Ehi Hacker È un attimino grossissimo Dimmi dove sei in questo momento Che non ti vedo più Sono dove c'è il primo Ok Io sono Dove non c'è un cazzo di niente Ehi Che casino che c'è qui Oddio è morto grossissimo È morto grossissimo No sono morto anch'io Vaffaculo però Dai Ero io quello grossissimo Ero io Ma eri tu Neanche me ne sono accorto Vaffaculo Cioè Neanche ti avevo riconosciuto Pensavo che era Un'altra persona Che era morta Che poi eri grossissimo Che poi c'è PewDiePie Secondo in classifica Perfetto Allora dai Facciamo l'ultima partita Io devo andare verso il centro Però dai Devo andare velocissimo Verso il centro Ma tanto tanto veloce Quasi verso il centro Dai Premi questa particella verde Che si allontana Ok Siamo Un po' scarsissimi Diciamo Siamo 375 Quindi non abbiamo Neanche la minima possibilità Di entrare in classifica Oggi Però Non è detto Niente Sono morto Ci saranno sicuramente Altri video Su questo gioco Perché Veramente Non so Ancora Non mi può spiegare Come mai Non l'abbia mai portato Sul canale E probabilmente Farò anche dei video Su Agario Quel gioco Che tipo È stato Molto Molto prima Più famoso di questo E niente Ringrazio Claudio Per averti partecipato A questo video Grazie a te Io direi Che questo video Può finire qua Mi raccomando Non perdete gli altri video E gli altri episodi Io vi saluto Ciao ragazzi Ciao ragazzi